buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video dei bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ciao amici buongiorno bentornati sul canale dei bancomatti sono micchi e vi do il benvenuto allora oggi torniamo su casa anche dico una cosa amici di casa anche non ce ne vogliate ma davvero è più forte di noi non trovare il proprio dentro vostro sito allora dirciamo perché casa anche ci fa un grandissimo regalo a parte ha brandizzato i prodotti bileda c'è davvero ha spinto molto sugli sconti bileda come vedete proprio qua dalla scritta che è comparsa fuori tutto 40 per cento su bileda jimmy e anchor clicchiamo allora approfitta subito dello sconto del 40 per cento su tantissimi articoli selezionati per te non solo detersivi anche ma anche su tutti i prodotti elettrici di bileda spugna accessori per la casa jimmy tutta la qualità ad un prezzo super conveniente metti nel carrello tutti i tuoi prodotti preferiti e apprezzati che lo sconto durerà fino al 23 di ottobre fino ancora cinque giorni però vi dico occhio perché di solito quando segnaliamo queste cose si scassano di ordini cosa aspetti 40 per cento di sconto è valido sulle nostre confezioni b pack e sui nostri assortimenti classici e pacco scorta i prodotti più amati super scontati vi dico noi lasciamoli perdere questa volta concentriamoci sui prodotti per la pulizia tipo le queste scope bileda come al solito superando i 35 euro ci vengono scontati i 9 euro di spedizione noi andiamo avanti come vedete ci sono tantissimi prodotti nel mio caso personale sto mirando a questo prodotto qua alla bileda steam scontata casa anche me la fa 53 euro siamo sopra i 35 abbiamo la spedizione gratuita vi dico prima che già pensiate best shopping non rimborsa in questo periodo su casa anche quindi 10 per cento che pensavate di beccarvi con la transazione salta vi faccio vedere intanto su amazon la bileda steam ecco amazon la vende a 55 euro e 99 casa anche la 53 la domanda è siamo pancomatti possiamo fare di meglio e io vi dico sì entrate col vostro profilo come vedete qua ciao michele buttiamo questa nel carrello inseriamo il famoso codice che tempo fa funzionava non funzionava dava problemi e andiamo nel carrello a fare la magia come vedete 53 euro di prodotto intanto chiedo scusa agli spettatori potete abbassare i telefonini di spettatori praticamente 53 euro 9 di spedizione sconto spedizione 9 euro inserite qui di fianco questo codice lg 2018 il codice che avevo segnalato qualche settimana fa per fare il colpaccio che tanti di voi hanno fatto e ci hanno scritto e ci hanno mandato le foto inserite il codicino lg 2018 cliccate su conferma codice e come vedete vi portate a casa la bileda steam a 43 euro consegnata gratis col corriere senza tirare fuori altri soldi se avete altri siti paralleli di cashback passateci sopra perché no io vi dico questo è quello che riusciamo a far noi con le cose che conosciamo 43 euro lasciate un pollicino se riuscite se vi piace se fate ancora meglio di noi e scrivetelo pure sotto per consigliarlo a tante altre persone io mici bancomatti utger vi diamo un grandissimo cashback ci vediamo domani e tantissimo buon risparmio ciao ehi grazie per essere arrivato in fondo a questo video se clicchi sul pulsante qua di fianco attivi l'iscrizione e clicchi sulla campanella noi bancomatti saremo sempre felici di avvisarti su un nuovo episodio una nuova promo o un'altra modalità per risparmiare rimani con noi ciao ciao